Cari amici, benvenuti, sudite la vostra che io dico la mia. Vorrei parlare di voti ai partiti, di percentuali elettorali dei partiti, approfondire con voi il fenomeno che ha portato ormai spesso e in modo anche frequente i partiti a crollare da un giorno all'altro. È avvenuto per esempio per il partito di Matteo Renzi, passato dal 40 e poi crollato, il partito democratico. È avvenuto per i 5 Stelle che erano considerati la novità assoluta sullo scenario, quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonne. Sono passati anche loro da sopra il 30 alla 14, 13, poi rovinosamente caduti durante le amministrative. È successo per la Lega di Salvini che ha spiorato il 30% nei sondaggi e poi è crollata sotto il 10%. E credo che succederà a breve, se non dovesse cambiare qualcosa, anche per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. E allora perché c'è questa fluidità nel voto? Perché si cambia così facilmente idea? Perché la gente cambia da un anno all'altro così radicalmente l'idea su chi votare? Beh, io mi sono fatto un'idea. La mia idea è che innanzitutto mancano i valori di riferimento dei vecchi partiti. Ossia una volta uno si sentiva di destra e votava sempre a destra, chi si sentiva di sinistra votava sempre a sinistra, chi era democristiano votava sempre democristiano. Oggi non ci sono più valori, ci sono solo partiti lideristici, tra l'altro con leader che cambiano idea un giorno sì e l'altro pure, su molti argomenti confondendo l'elettorato. E quindi di qui la fluidità del voto. Ogni volta che si presenta una novità, questa viene assunta dall'elettorato come possibilità alternativa e magari prende più voti di chi in precedenza primeggiava. Ma è solo questo il punto? A mio giudizio no. C'è anche il fatto che i partiti che dall'opposizione passano il governo non riescono a mantenere le promesse, non solo della campagna elettorale, perché per esempio la Melonia è stata molto attinta a promettere poco in campagna elettorale, ma non promettere tutta quella propaganda che dall'opposizione è stata portata avanti per anni, sull'immigrazione, sulla benzina, sulle tasse, su tutto insomma. Questo porta poi inesorabilmente nel medio periodo ad avere un crollo della fiducia e quindi anche dei voti. Questa è la mia sensazione. Io vorrei sapere la vostra opinione sull'argomento, che credo sia specifico ma interessante, di come nella nostra società globale, in cui ormai i social dominano, in cui le informazioni arrivano, i partiti non hanno più quella stabilità e solidità necessaria per costruire un modello valoriale. Voi cosa ne pensate? Dite la vostra.